La classificazione dei complementi. Allora, complementi della frase costituita da soggetto e predicato. Abbiamo delle espressioni che hanno la funzione di completare il significato, di arricchirlo o di specificarlo. Il gatto riposa, il gatto di Isa riposa, soggetto, gatto, predicato, riposa, il gatto di Isa complemento, arricchisce il significato della frase precisando di chi è il gatto e poi c'è il predicato, riposa. Il gatto di Isa riposa sul divano ogni sera, soggetto, il gatto di Isa complemento, il gatto riposa, predicato, sul divano complemento, ogni sera complemento, arricchisce il significato della frase precisando dove riposa sul divano e ogni sera arricchisce il significato della frase precisando quando riposa il gatto. I complementi completano, esprimono la funzione logica che tali elementi svolgono nella frase. I complementi aggiungono alla frase informazioni necessarie, più o meno necessarie, ai fini del significato. Ci sono complementi necessari per capire il senso senza dire sì, la frase non esiste, Mario abita, non ha senso, Mario abita con sua zia, ha senso. Un ladro ha svaliggiato, non ha senso, un ladro ha svaliggiato una banca, ha senso. I complementi non necessari invece servono per capire, non sono necessari per capire il senso e senza di essi la frase esiste, anche si arricchiscono il significato della frase. Paolo ha trovato un fungo in giardino, arricchisce il significato ma non è fondamentale. Un ladro ha svaliggiato la banca di notte, arricchisce il significato ma non è fondamentale. Ci sono complementi che aggiungono alla frase delle informazioni più o meno necessarie ai fini del significato e complementi che aggiungono e sono necessari e non necessari. Ad esempio, Luca non parla, un ladro non parla con noi. Complemento non necessario, la frase ha senso compiuto anche senza di esso. Complemento necessario, la sua presenza o l'assenza rende un diverso significato alla frase. Luca non parla perché non vuole compromettersi. Oppure un ladro non parla con noi perché parla con altri. I complementi necessari perché la frase abbia senso e perché l'assenza o la presenza cambia senso sono detti complementi di determinazione o argomenti obbligatori. Cioè devono essere sempre espressi. Complementi non necessari che apportano informazioni utili ma informazioni non indispensabili per la comprensione del messaggio sono detti invece complementi di espansione. Quando espandono o arricchiscono un elemento della frase. O complementi circostanziali, quando espandono o arricchiscono l'intera frase. Complementi hanno due caratteristiche principali che consentono di individuarli. A sono costituiti da un nome o da un pronome. B sono introdotti da preposizione semplice, preposizione articolata, di, per, con, della. Questo libro è perlino. Soggetto questo libro è predicato, perlino, complemento. E possono essere accompagnati anche da posizione, attributi della posizione. Questo libro è perlino, perlino, l'intellettuale del gruppo. Possono essere accompagnati da uno o più aggettivi e sono attributi del complemento. Antonio è con un'alta e bella ragazza.